Ciao! Io mi chiamo Erika! Sto preparando le verdure per Susanna! Fummi! Fummi! Ah sì, tra poco è pronto! Mettiamo il bavaglino per non sporcarci! E arriva, arriva l'aeroplanino da Susanna! Perché non vuole mangiare le verdure? Sono salutari, fanno bene, sai? Niente da fare! Non vuole mangiare le verdure! Che cosa posso fare per convincerla? No, 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 non voglio! Palamella! Palamella! No, 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 signorina! No, no, no! Sono belle! Sono belle! Le caramelle dopo! Prima bisogna mangiare le verdure! No, 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 no! Caramelle! Ehi, Green! Chi è che sta piangendo? Hmm, secondo me è Susanna! Andiamo a vedere? Sì, andiamo! Ehi, Susanna! Che succede? Perché piangi? Ciao, Erika! Che succede? Perché piangi, Susanna? Orange, Green, ciao! Susanna piange perché non vuole mangiare le verdure! Sono belle! De la maglie! Orange, ho un'idea! Vieni con me! Arrivo! Secondo te che cosa hanno in mente, Orange e Green? Ecco qua! Oh, Orange! Che cos'è questo? È una gruacchiappa verdura! Wow, quante verdure che ci sono! Eh sì, hai visto quante? Così Susanna può giocare e poi mangiare ciò che ha preso! Eh sì, gioco! Ah, che... E allora andiamo a giocare! Guardiamo come gioca Susanna! Vai Susy! Uau, Susy! Hai preso qualcosa! Dai, dai, dai! Susy! Susy! Hai preso un pomodoro! Ah, pomodoro! Bravissimo Susanna! Adesso puoi mangiare il tuo premio! Uau, 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 uau! Guarda, Susy mangia le verdure! Uau, uau, uau! Benissimo! E adesso puoi mangiare la caramane! Uau, 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 uau! E' calamelle! Questa! Perché non giochiamo un altro po' e questo lo mangi dopo? Sì, sì, ancora! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau! Uau, 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 uau è stata brava? Ecco il tuo premio! Susanna, non dimenticare che mi sceglie l'altra caramella! Eeeh, caramella! Questa! Ottimo lavoro Susanna! Ha vinto una lecca lecca e una caramella! Grazie Orange Green per avermi aiutato a far mangiare le verdure a Susanna! E a te piace mangiare le verdure? Se ti sei divertito metti mi piace e continua a guardare i nostri video! Io e Susanna ti aspettiamo! Ciao ciao, alla prossima!